Benvenuti alla scuola di polizia! Sono la sergente Jennifer e farò di voi delle vere agenti! Attenzione, criminali! Non scherzate con me! Fuoco! Wops! Scusa, papà! Ellie sta giocando di nuovo! Idea! Ti mando all'accademia di polizia! Io credo in te! Ecco la tua paghetta! Buona fortuna! Questo è nuovo! Voglio provarlo! I miei occhi! Mi dispiace! Non volevo! Peccata ladra! Non puoi andartene ora! Ottimo lavoro! Ti invito a entrare nella mia accademia di polizia! Sergente Brittany, sei l'orgoglio di questa accademia! Aspettami! Agente, che fretta c'è! Cos'è quello lassù? Un segno che avrai una promozione! Oh sì! Devo andare! Il dovere mi chiama! Grazie per il suo aiuto, agente! Un uniforme dell'accademia di polizia! Così elegante! Devo solo aprire la serratura! E sono libera! Perché non sei in classe, cadetta? E c'hai iniziata! Sbrigati! Ok! Sono in posizione! Cadette, unitevi a me! Pronte? Andiamo! Via, via, via! Via, via! Panico! Tutti devono lasciare il locale! Ragazze, l'intero negozio è nostro! Questa è la migliore svendita negli ultimi anni! Voglio questa! Il camerino è mio! Belle scarpe! Ma chi fa? Tieni il resto! Oh, dimenticavo! Non è divertente? Così? Tiralo più forte! Sì! Grande! E' un elicottero! Attacco aereo! Ragazze, niente panico! Ho solo acceso un'asciugatrice! Portate la scala in palestra! Ellie è sul caso! Sta cercando un pericoloso criminale! L'hai visto? No, mi dispiace! Dammi i tuoi soldi ora! Scusi se la disturbo, ma ha visto quest'uomo! No, mai! Aspetti! Le è caduta una ciglia! Torno a cercare! Soldi! Cadette, oggi impareremo a usare le armi in modo corretto e sicuro! Scegliete una pistola stordente! Scegliete una pistola stordente! È lì! Stop! Nuovo piano! Consegnate le armi! Non siete pronte! Ok! Ora immaginate che la banana sia un'arma! Puntate! Poi premete il grilletto e... Via! Gnam! Una banana! Le cadette si stanno allenando più che possono! Britney non ce la fa più! Posso usare questo? Cadette, impariamo a delineare un corpo sulla scena del crimine! Beh, ora sapete come si fa! L'addestramento è finito per ora! Posso prenderlo? Aggiungo solo un po' qui e qui! Così va meglio! Assolutamente! Bel corpo! Mettilo nella serratura! Ciao, cadette! Sergente Jennifer? Britney, il sergente è qui! Wow! Sono stata io? Dovrei tagliarmi le unghie! Oh, Britney! Perché l'hai fatto? Occhiali di sicurezza, cuffie e guanti di gomma! Sono pronta per andare in bagno! Oggi avrete un esame! Un altro! Io me ne vado! Ma questo cane poliziotto vi sorveglierà! Assicurati che nessuno indrogli! Cosa? Questo cane dovrebbe essere pericoloso! È minuscolo! Dov'è il mio bigliettino? Ok, ok! Mi arrendo! Non si bara! Non mangiarmi! Cadete, il vostro compito è di interrogare questo sospetto! Non otterrai niente da me! Cominciate! Dici dov'è il tuo complice! Mai! Ho un'idea! Guarda come sono folte le sue sopracciglia! Cosa stai facendo? Dov'è? Non so niente! Bene! E ora le unghie! No! Non voglio parlare! La strategia più efficace! La ceretta! Ma dov'è andato? Il mio zaino! Aiuto! Mi stanno rapinando! Fermo! Ridammelo! Non la sto rapinando! Lo sta facendo! Quello è il mio zaino! Quindi chi sta dicendo la verità? Devo pensare! È uno zaino da donna! Lo sta rubando! Non so! Il colore gli sta davvero bene! Basta guardarlo! Ottimo punto! Ron prende la borsa! Io l'avevo detto! Cosa? Giustizia è fatta! Non mentire ai poliziotti! Non esiste! Tutti questi criminali devono lavorare insieme! Devo solo trovare il collegamento! Dove mi porta questo filo? C'è mia mappa! È rovinata! Bella! Che hai fatto? Ti ho fatto un maglione! È della tua taglia! Non c'è di che? Che lezione noiosa! Bella si è addormentata! Cadetta! Sei in arresto! Oh no! Non voglio tornare in prigione! Per favore! Fatemi uscire! No! Era solo un sogno! Ti presento la nostra cadetta Bella! Sarà lei a fare l'identikit! Felice di aiutare! Cominciamo! Aveva un naso storto con una verruca! Occhi spaventosi! E orecchie enormi! Orecchie capito! Devo solo stamparlo! Fatto! Gli assomiglia? Cosa? No! Per niente! Sei sicura? Penso che sia venuto benissimo! È così bello! Se non ti piace lo tengo io! Ma dove vai? Non le piaceva Robert! Che maleducata! Come si può resisterli? Dov'è Ellie? Non lo sappiamo! Inizieremo senza di lei! Il mio colpo è letale! Grande! Bella! Posso rompere una serratura dalla posizione dell'albero! Interessante! Sono qui! Wow! Brava! Impressionante Ellie! Ragazze, riuscite a farlo? Assolutamente no! Il compito di oggi è fare una frase con questi ritagli di riviste! Il tempo inizia ora! Ragazze, ho un'idea migliore! Mettiamo insieme un'intera rivista! Facciamolo! Questo dovrebbe essere sufficiente! Ha funzionato! Aprilo! La rubrica di gossip! Ups! Niente distrazioni! Chissà cosa stavo immaginando! Ricreazione! Ragazze, guardate qui! Gettala! Gettala! Niente ciambelle nel mio campus! Solo cibo sano! Buon appetito! Eww! Le ciambelle sono per gli ufficiali superiori, comunque! Gnami! Ha bisogno di aiuto, signora? Grazie, cara! Nessun problema! Farò tutto io! Ora non perderà la sua spesa! Felice di aiutare! Oh, mamma! Ah, i ragazzi di oggi! Le cadette della polizia stanno per arrestare qualcuno per la prima volta! Ma... Oh, oh! Il colpevole è scomparso! La tazza è ancora calda! Se n'è appena andato! Dalla finestra! Ma come faceva a sapere che stavamo arrivando? Avete qualche idea? No! Ellie? Siamo dentro? Ma il sospetto è sparito! Ups! Ellie? Sei stata in live streaming tutto il tempo? Ovviamente lo stava guardando! Niente più live stream quando sei su un caso! Jennifer sta addestrando le cadette sul modo migliore per estrarre le armi! Ups! Ehi, quello è il mio tacco! Ups! L'allenamento è finito! Aspettatemi! Questo acquirente sembra sospetto! È un ladro! Sei in arresto! Cosa? Non è nemmeno la tua ID! Sì, lo è! Brittany si è fatta un po' prendere la mano con Photoshop! Quella non sei tu! Sì, sono io! No! Sì! Serve il parere di un esperto! È lei? No, non lo è! Sta fingendo! Andiamo! Ma sono io! Ehi! Le cadette sono in pausa pranzo! Oh no! Il mio ex con la sua nuova ragazza! Lui? Cosa faccio? Lo so io! Vai a chiedere aiuto al sergente! Sergente Jennifer! Per favore mi aiuti! Posso prendere in prestito un prigioniero? No, non è possibile! Ho bisogno di lui! Ok, va bene! Grazie! Non c'è tempo per spiegare! Tu vieni con me! Ok! Ellie, vai via! Ciao, Anthony! Fai finta di essere il mio ragazzo! Mi piacerebbe! Ho bei capelli! Sta guardando! Abbracciami! Se n'è andato? Smetti di abbracciarmi e torna nella tua cella! La tua posizione è sbagliata! Sei serio! Così va meglio? Non puoi fare fotosegnalettiche così! What? Tieni il telefono! Guarda e impara! È così che si devono fare! Ci vorrà un bel po' di tempo! Sono stanco di fare foto! Non mi guardano nemmeno! Grande! Il Sergente Jennifer è pronta a combattere il crimine! Sta addestrando le cadette a mirare! Vai, Bella! Mancato! Mancato! È ancora mancato! Non ho colpito il bersaglio! L'ha mancato! Torno subito! Fai finta che questo sia il tuo ex! Ora fallo! Oh! Tiro fuori l'artiglieria pesante! È stato facile! Davvero impressionante! Sembrano piccoli angeli addormentati! Sveglia! Sveglia! Avete dieci secondi per prepararvi! Forza! Bella! Bella! Prova! Allì, bene! Britney! Cosa c'è che non va? Cominci sempre col trucco! Il sergente Jennifer ci sta insegnando come controllare il traffico! Il fischietto serve ad attirare l'attenzione! Guarda! Fermati! Vai! Puoi farcela? Assolutamente! Stop! Vai! Lo sta facendo! Ferma! Gira! Ma sto andando dritto! C'è traffico! Gira a sinistra! Dirigere il traffico è così noioso! Ho bisogno di musica divertente! Ma è impossibile stare fermi quando c'è la tua canzone preferita! Ma se stai dirigendo il traffico... Questo potrebbe portare ad alcune spiacevoli conseguenze! Ta-da! Dov'è il mio applauso? Vabbè! Vai avanti! Questa! Probabilmente questa! Ok! Siamo pronte! Questa è impronta! Siete sicure? Il fondotinta corrisponde perfettamente! Non sono stata io! Mi stanno incastrando! Ottimo lavoro! Avete le mani legate! Il vostro compito è fuggire! Via! Ce l'ho quasi fatta! Ah! Questo è facile! Ho dipinto la mia ultima unghia! Fatto! Che bel colore! Lo voglio anch'io! E io! Il sergente Jennifer sta dando alle cadette le istruzioni per un nuovo compito! Ok! Capito? Sì! Uno, due, tre! Fatto! Cos'è? Un'insalata! Ho seguito le sue istruzioni! Oh, Ellie! Beh, grazie! Allarme rosso! Alle tre del mattino! Ellie, sveglia! Sveglia! Le ragazze si preparano il più velocemente possibile! Aspettatemi! Il sergente Jennifer sta facendo una serata spa! Il fumo viene da qui! Che succede? Cosa? Sergente Jennifer! Candela e incenso! Torniamo a letto! Sono così tese! Dovrebbero meditare! Come disinnescare una bomba! Non posso confondermi! Quale filo? Rosso o blu? Non ce la faccio! Scelgo il blu! Ha funzionato! Ehi! Ho tagliato il filo! Dai, Brittany! Taglia! Ce la puoi fare! Noi crediamo in te! Cosa? Sta tagliando i capelli! Seriamente! Brava! Ce l'hai fatta! Il taglio di capelli perfetto! Grazie! Le cadette si preparano! Armi presenti! Un cappello e un fermaglio per tenerlo su presenti! Glitter illuminante e shimmer! Sono pronta! Non sono sicura che Brittany abbia capito il compito! Riuscirò ad aprire questa serratura! Di sicuro! Ha! Ce l'ho fatta! Ciao, Bella! Potevi semplicemente bussare! Entra! Oh, giusto! Tieni la dritta e spara! Non preoccuparti! Non usiamo pistole vere! Ma Ellie è troppo nervosa per colpire il bersaglio! Penso che sarò bloccato qui! Non posso farlo! Va bene! Usa la tua arma segreta! La seduzione! È notte! Quindi... Ispezione? Dormono? Ah, anche loro! Aspetta! Stanno dormendo! Chissà cosa sognavo! Se ne è andata! Possiamo continuare a divertirci! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto chi è il tuo personaggio preferito! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo esilarante video di Troom Troom! And then a, 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 a a, 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 a a, 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 a